Per il collegamento quotidiano con gli amministratori del territorio abbiamo sentito la sindaca di Carbonia, Paola Massidda, che in questa fase 2 raccomanda ai cittadini un senso di responsabilità ancora più consapevole rispetto alla fase precedente, per non vanificare gli sforzi fatti finora. Devo dire che quello che colpisce sia nell'ordinanza del Presidente Conte e del Presidente Solinas è questo, che si chiama questa fase 2 ad una, se possibile, ancora maggiore cautela e senso di responsabilità dei cittadini, perché nella fase 2, che è quella più difficile, dove il problema della tutela, della salute, che è un problema ancora persistente, perché la pandemia non è finita, abbiamo ottenuto dei risultati non per miracolo, ma per effetto di questo lockdown, di queste misure restrittive, che ci hanno portato ad essere una delle regioni più fortunati, diciamo dal punto di vista dei risultati dell'attacco di questo virus alla nostra popolazione, con pochi contagi e per fortuna pochi decessi rispetto alla media nazionale. Per cui la raccomandazione è veramente, questa volta, i cittadini di un senso di responsabilità, di un'attenzione particolare rimessa a loro, adesso che ci apriamo, in più che allentiamo le misure restrittive, anche le nostre libertà di movimento, di usare queste misure precauzionali, che sono poi quelle della distanza interpersonale, della mascherina, quando è necessaria, dei guanti e dei divieti di assembramento, come un nostro nuovo codice etico. L'intervista integrale la potrete vedere durante il telegiornale della sera. Grazie.